come sa bene chi mi segue io ho dedicato praticamente tutta la mia vita alla musica sacra più di 30 anni di impegno in questo campo che sono cominciati nella mia primissima adolescenza cantando e suonando nelle bellissime chiese romane nel quartiere in cui sono nato e in cui ancora vivo certamente devo essere grato per aver potuto conoscere questo mondo e alcuni dei suoi protagonisti però non posso comunque nascondere la grande sofferenza che questo impegno mi ha causato e la consapevolezza di come la grande crisi della musica sacra che stiamo vivendo conseguenza della crisi della liturgia che è a sua volta conseguenza di una enorme crisi di fede non riguarda solo i credenti ma tutti coloro che hanno a cuore e che amano la bellezza perché dico questo perché la musica sacra è la matrice della musica occidentale è alla base di tutta l'altra musica anche quella profana anche quella che viene suonata e cantata da coloro che non si pongono per niente il problema del fatto religioso della religione la crisi della musica sacra non è soltanto una crisi che viene circoscritta nell'ambito di coloro che sono interessati alla religione dei credenti ma è una crisi anche culturale di vastissima portata ma perché parlo di una crisi perché oggi il ruolo della musica sacra nella liturgia viene minimizzato si scoraggiano cori e musicisti professionisti nell'impegno in questo campo in più di 30 anni di attività ne ho viste veramente tante e ho visto anche tante persone di buona volontà che cercavano e cercano ancora di fare del loro meglio perché la dignità della musica della liturgia sia preservata purtroppo a volte gli oppositori più grandi di queste persone di buona volontà sono proprio i sacerdoti sono proprio nel clero e sono coloro imbevuti di una mentalità e di una ideologia che si distacca di molto dalla vera idea che dovremmo avere del cattolicesimo e che è quella che la tradizione ci ha tramandato ricordiamoci che dobbiamo all'impegno di tanti anonimi musicisti e non del nostro passato anche quello che poi è venuto dopo la musica sinfonica la musica cameristica l'opera e per chi anche è appassionato la musica leggera il jazz e tutto quello che potete pensare in ambito musicale ricordiamoci che la musica cosiddetta classica non è soltanto un patrimonio del mondo occidentale ma viene coltivata e studiata in tutto il mondo con grande passione e interesse e io ve lo posso testimoniare direttamente la chiesa era un tempo matrice di cultura e bellezza ma oggi tutto questo è stato abbandonato per una distorta idea di progresso per un'idea malsana di partecipazione che toglie alla persona i preziosi tesori artistici musicali a cui avrebbero dovuto essere invitate a prendere parte ed è stato utile no visto che le chiese sono sempre più vuote sempre più abbandonate sempre più prive di quei fedeli che un tempo le affollavano quindi tutto questo agitarsi non ha fatto scaturire l'effetto che probabilmente alcuni avrebbero desiderato eppure si insiste in questa direzione ormai ci si è incaponiti pensando che questo minimalismo liturgico e musicale porterà un giorno le persone di nuovo in chiesa ma non ci si vuole rendere conto con onestà che certamente non potrà essere così anche se si è atei non si può rimanere indifferenti di fronte a questa devastazione culturale io so di molti atei militanti come per esempio il famoso scienziato richard hawkins che pur non credendo in dio hanno un apprezzamento enorme per il parrimonio artistico prodotto dal cristianesimo si è liberi di non credere in dio ma non si può non riconoscere il contributo enorme che la religione ha portato nel campo della cultura dell'arte dell'antropologia spesso migliorando le nostre vite e dando un senso ad una esistenza che altrimenti ci sembrerebbe priva di una direzione